Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi torniamo a parlare di iPhone 15. Come sicuramente saprete di recente Apple ha inviato gli inviti dell'evento che si terrà a Cupertino il 12 settembre. Lì finalmente scopriremo tutte le novità riguardanti i nuovi iPhone. Ma già oggi, grazie ad alcuni leaks, sappiamo che il nuovo iPhone dovrebbe avere dei bordi più stondati e delle cornici più sottili che fanno pensare ad uno schermo più grande mantenendo le stesse dimensioni. Altra novità dovrebbe essere lo switch del mutuo che dovrebbe diventare un tasto programmabile proprio come quello di Apple Watch Ultra. Da non dimenticare anche i nuovi colori. Oltre lo space black e il silver dovremmo vedere anche il titan grey e il dark blue. Il titan grey ragazzi è veramente bellissimo. Cosa che invece spero io è che il nuovo iPhone sia in titanio. Anche il logo dell'invito dell'evento sembra richiamare quel colore quindi io ci spero molto così potrò finalmente matchare il mio Apple Watch Ultra. Novità che tutti noi stiamo aspettando è sicuramente l'arrivo della porta USB-C e sembra proprio che quest'anno sia l'anno buono. La porta USB-C dovrebbe portare con sé la ricarica a 35 watt e la possibilità di utilizzare dispositivi Thunderbolt con gli iPhone Pro. Ma ragazzi non è tutto oro quello che luccica perché sembra proprio che Apple voglia introdurre dei cavi proprietari per utilizzare tutte queste features. Questa mossa ragazzi è molto Apple. E parlando di cavi i cavi dovrebbero essere molto simili a quelli trovati su MacBook Air quindi in stoffa intrecciati e soprattutto dello stesso colore del dispositivo che avete acquistato. Altra novità riguarda la fotocamera che dovrebbe portare con sé una lente periscopica a 6x features che non mi interessa moltissimo ma sono ovviamente curioso di vedere e provare. E ultima ma non meno importante la possibilità di acquistare un iPhone da ben 2 terabyte. Non so quanti di voi acquisteranno un iPhone 2 terabyte ma quest'anno sembra proprio ci sarà anche questa possibilità. Dunque ragazzi anche per oggi è tutto adesso voglio sapere da voi qual è la features che vi interessa di più tra quelle che ho appena elencato e quella che invece vorreste vedere e che ancora non avete sentito in nessun'altra news. Ragazzi per oggi è tutto ci vediamo in un prossimo video vi aspetto nei commenti. Ciao!